E' stata presentata ieri mattina nell'aula consigliare di Filippo di Agropoli la 14esima edizione del Settembre Culturale. Il tema di quest'anno, ricorrendo il 700esimo anniversario della morte del sommo poeta, sarà Dante Alighieri e la conoscenza. Si consolida il forte legame con il mondo della scuola che, oltre alla premiazione degli studenti che hanno conseguito la maturità negli istituti superiori di Agropoli con il massimo dei voti, bravo e bello, giunto alla 15esima edizione, si arricchirà del concorso di poesia Alfonso Gatto, giunto all'ottava edizione. Si ripropone dunque il Premio Settembre Culturale Città di Agropoli alla terza edizione, che sarà conferito a Marotta e Cafiero, editori, spacciatori di libri e la serata dedicata allo storico e meridionalista Domenico Chieffallo, seconda edizione. Una rassegna che funziona ed ogni anno di più stupisce ed affascina. La cultura è divenuta sempre più per la città di Agropoli una priorità e questa rassegna rappresenta il fiore all'occhiello tra le diverse iniziative che l'ente propone durante l'anno. La rassegna si conferma come momento di aggregazione e condivisione tra ente pubblico e associazioni, scuola, cittadinanza, in un dialogo costante e proficuo. Un contenitore di positività, di grande profilo. L'attenzione al mondo giovanile e il desiderio di coinvolgere sempre più quella fascia di popolazione che rappresenta il futuro motore propulsivo della città di Agropoli è in questa edizione ancora più tangibile. I giovani saranno parte attiva anche nella conduzione e animazione delle serate.